Se qui ci stanno i cittadini e questa non è la seda di città, ci dici a quale è la seda di città? Allora qui c'è una parte di cittadini. Se qui ci stanno i cittadini e questa non è la seda di città, ci dici a quale è la seda di città, ci dici a quale è la seda di città, ci dici a quale è la seda di città. Grazie. 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 Grazie.